ci sono alcune delle sue auto che per me sono hanno scandito proprio dei delle aere automobilistiche e la prima è la stratos ci parli un po della strada strato se si è stato il mio primo approccio con al di là delle altre vetture che avevo fatto più per divertimento ma comunque anche la strada su per me è rappresentato un divertimento perché il direttore della direttore tecnico della lancia me ne aveva affidato parte buona parte della progettazione perché il motore arrivava dalla ferrari ma tutta la meccanica la facevamo noi tutta la struttura della scocca le sospensioni che era una cosa e tra l'altro quella vettura lì era nata con due sospensioni di tipo delle vetture da corsa con cosiddetta quadrilateri se non che in quel periodo si stava facendo la beta che aveva delle sospensioni mcpherson il direttore viene e mi dice bisogna che lei mi studia una sospensione almeno scelga lei dove volevo mettere sull'anteriore o sul posteriore ma deve essere un mcpherson per richiamare il e comunque questo direttore non si è mai interessato perché quando gli chiedevano a che punto era il progetto lui veniva da me dice venga di là in ufficio che parliamo di quello strazio perché perché a lui questo discorso della macchina della corsa non è che gli andasse molto giù comunque però poi cos'è successo io lavoravo allora in ufficio tecnico e avevo l'ingarico del responsabile dell'ufficio calcoli però poi ho assunto dei ragazzi che io ho fatto crescere e nel 74 il direttore generale mi dice basta correre solo ai rally dobbiamo fare le vetture per correre in pista e quindi un gruppo 4 e un gruppo 5 e mi chiese di andare al reparto corsa dice lei viene su in ufficio tecnico quando hanno bisogno ma dice oramai ragazzi lei gli stradati quindi immagino che si muovano da sole e lei passa al reparto corsa e quindi avevo fatto prima il gruppo 4 che ci ha corso facetti il 75 carlo facetti e poi abbiamo fatto il silhouette gruppo 6 il gruppo 5 che però cos'è successo il siluette ha corso poco perché è nato nel 76 alla fine del 77 è cambiato il direttore generale che è arrivato ne è arrivato uno nuovo dalla fiat il quale ci ha detto la vocazione della lancia sono i rally via tutti gli altri tipi di vettore si corrono solo i rally la lancia non corre più in vista la silhouette è stata venduta a tamia quello che fa i giocattoli che mi ha fatto il modellino e l'ha mandato ha visto giù il modellino della stratos quello lì è il modellino che hanno fatto sulla base della stratos silhouette comunque la stratos è stata una macchina che ci ha dato grosse soddisfazioni nel senso che quando siamo partiti c'erano almeno altre tre concorrenti che stavano facendo delle vetture da rally c'era la ford con la gt 70 che non è mai uscita non so se la mai si denominare lei io ho fatto felicissimo un giapponese che raccoglie dei pliant di vetture lui io sono da trovarlo tra l'altro ha una un'intera sala piena di dei pliant di vetture degli anni 60 quando era ragazzina si caricava delle borse al salone di tokyo e se lo portava lì però non aveva un dei pliant di una vettura che non è mai uscita che l'hanno presentata al salone poi non è stata mai prodotta quando gli ho regalato questo qui è imbazzito perché adesso la pesa lì omaggio dell'ingegnere materazzi che era cosa unica e quindi c'era la ford poi c'era la legge con il maserati con il motore maserati e poi chi c'era c'era un altro concorrente e comunque dopo un po si sono ritirati perché adesso non mi ricordo non ci fate a casa per me ogni tanto la memoria mi fallisce comunque fatto sta che la strato si è rimasta poi in pratica da c'era l'alpine che doveva anche quella partecipare però poi dopo un po su scomparsi quasi tutte è rimasta in pratica la ford escort che c'era vatan e c'erano le solite porsche che ci hanno fatto fuori a un rally di monte carlo un anno per un problema di uomo l'ultimo anno che ha corso la stratos il monte carlo l'abbiamo perso per per le gomme perché noi non dovevamo partecipare alle prove delle gomme l'ava fatta la fiat noi siamo andati lì e c'era neve e ghiaccio e i piloti arrangavano non riuscivano a salire sui colli mi ricordo che è una delle delle cose più divertenti della stratos è stato al tour de course vabbè questo ve lo dico giusto così quando quando d'armiscia era il re della corsica praticamente era imbattibile lì se non che un anno un anno tutti si complimentavano fatto un tempo eccezionale arriva michel muton e gli rifila qualche secondo due secondi il direttore sportivo va da darnisce dice sai dice queste secondo me la muton e gli hanno montato un motore 3.000 perché avevo fatto un motore 3.000 per il papà di wurz che correva in formula 1 che faceva il rally cross in austria allora dice il becco dalla porsche vedete di fare qualcosa e abbiamo fatto un 3 litri dal 2 e 4 abbiamo maggiorato la cilindrata fino a 3 litri allora le vasce diceva darnisce dice bisogna che quando finisce la gara vedrai faremo controllare il motore e darnisce gli ha detto controlliamo lei perché avrà due attributi così perché andare forte così come è andata 2 4 3 litri ci vuole un gran manico michel muton di fatto poi ha corso con l'audio e ammenato tutti i ragazzotti e era una che che non era la belva quella che tutti gli anni fa quelle quella riunione dei vecchi rallisti fanno un raduno su un circuito di rally cross fanno una gara tutta gente quasi settantenne oramai e niente lì in corsica poi l'ha vinto darnisce quell'anno perché sandro è uscito è stato l'anno prima questo episodio quell'anno santo io ero in macchina con il mio co-equipe e ho sentito blam 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 perché noi eravamo collegati con le radio di costante è uscito e ho sentito che imbregava contro la sua copilota di ti sei orbo ti sei orbo perché non aveva visto una curva che c'era dopo un dosso niente di gare il gruppo 4 dopo tre gare siamo partiti in ball position a misano anche se noi correvamo contro tutte porsche che erano tre litri noi avevamo due avevamo un motore che era 24 però il nostro era un quattro valvole quindi come potenza ce la batteva ma è partito in prima fila a misano dopo due curve l'hanno toccato è uscito e poi il resto dell'anno abbiamo fatto dei risultati ma non erano quelli che ci aspettavamo in verità col silhouette si è vinto il giro d'italia però abbiamo fatto poche gare poi ci hanno fatto smettere come dicevo perché è arrivato il nuovo direttore che ci ha detto che la vocazione poi da l'anno dopo hanno unificato il reparto corse lage fiat lingua sommar che io ho smesso di interessarmi la stratos non doveva più correre perché doveva vincere il 131 e l'episodio del monte carlo del 79 è emblematico perché avevano detto a darnisce correva con una scuderia privata correva con l'importatore della lancia in branca e gli avevano detto che doveva stare dietro le 131 solo che avevano fatto male i conti perché erano 5 131 una era uscita l'ultima notte c'era una porsche in testa no una una ford allora hanno detto a darnisce vedi un po se riesci ad andare più forte di questo signore avviene il relle perché l'ha bastonato in tutte le prove che c'erano e quindi questa è la storia del 131 che vabbè comunque la stratos poi a me ha dato modo di mettere a frutto certe conoscenze che tenevo perché avevo la possibilità di seguire le prove quindi facevo delle modifiche andava a provarle cercavo di capire se era migliorativa se c'era ancora margine per migliorare ulteriormente quindi sotto questo aspetto è stato un grosso ma da una grossa mano dal punto di vista professionale come dico io ero ero responsabile dell'ufficio calcoli ma contemporaneamente poi i calcoli passavo al disegno ma all'epoca mi piaceva anche verificare in pratica quello che succedeva attraverso questi interventi che facevo e tutto sommato poi ho visto che la cosa mi è servito moltissimo per esempio la perché il silhouette usava il turbo e io avevo fatto degli studi molto accurati io dei diagrammi che ci ho passato adesso non mi ricordo più perché è roba del 77 quindi una quarantina d'anni non è mica l'altro ieri ho visto che avevo fatto uno studio che rassomigliava a quello che ha fatto la nissan cioè ho tutti i calcoli come cambiava il rapporto di compressione in funzione della pressione di sovralimentazione solo che la nissan ha fatto una cosa più complicata che cambia il rapporto di compressione del motore secondo me non è indispensabile perché io lo cambio lo stesso attraverso la modifica della legge di sovralimentazione e questo mi è servito moltissimo questa serie di studi di fatti il corriere della sera noi ragazze dello sport pubblicò un articolo che mandò in zolluccherò il commentatore ferrari sa tutto sul turbo il tecnico passato dalla hosella alla ferrari perché all'epoca come dicevo alla lancia avevo portato avanti io tutta la anche se all'epoca c'era un grossa difficoltà che era legata al fatto che i i costruttori di turbo facevano solo roba da camion e quindi ci dovevamo adattare in america c'era un costruttore io avevo fatto arrivare un turbo per elaborare un cava 900 che poi non è stato nessuno capace di guidarlo perché credo che avesse 180 cavalli all'epoca parliamo del 77 78 e abbiamo trovato il collaudatore che si era offerto per fare un giro sulla tangenziale di torino dice la motelini si vuole qualcuno se la porti a casa perché fa paura era comparato da questa ditta americana la regei mentre noi con ci servivamo della quella che adesso si chiama si è chiamata kkk ma all'epoca si chiamava verspacca tedesca anche se poi io i miei condatti quando ho capito quello che facevano i giapponesi tutte le vetture che ho fatto dopo le ho fatte tutte con i turbo giapponesi perché oltretutto avevo un tipo di assistenza molto assiduo molto attento e molto fattivo soprattutto nel senso che se io chiedevo degli interventi delle modifiche dei miglioramenti loro soprattutto per le f40 me l'hanno fatto apposta di turbo avevo chiesto io di fare una cosa quelli che mi davano loro ce n'era uno che era troppo grande e uno che i due compressori erano non erano adeguati a quello che volevo allora me l'hanno studiato uno specifico che poi credo l'abbiano dato anche alla toyota dopo un po visto che da un numero sperimentale di disegno era passato un numero definitivo perché l'avevano fornito anche alla toyota per un come dico l'esperienza della lancia oltre al fatto che ho avuto due maestri formidabili e ho avuto la possibilità di potermi muovere da solo perché lavorando poi con sulle vetture da corso come dico facevo le modifiche facevo il progetto i calcoli facevo i pezzi andava a provarli e quindi avevo la possibilità di verificare se quello che avevo intravisto teoricamente corrispondesse o no è un effettivo miglioramento questa esperienza poi fatta col turbo è stata una cosa che mi è servita molto in ferrari perché in ferrari io sono arrivato che praticamente si cominciava a parlare di turbo però avevano dei problemi è venuto ferrari dopo due tre giorni che ero lì e mi ha detto ma lo sa che il nostro motore ha un bacco si purtroppo non riusciamo a fare delle prove prolungate perché poi avevo l'esperienza dell'arancia alla ferrari nessuno ne sapeva niente all'epoca perché nessuno aveva messo mani sul turbo di fatti ferrari una sera si è chiamato e ci ha dato una scheda con tre domande per sapere il grado di fiducia che noi avevamo in questa in questa macchina sul turbo compressore gli altri avevano visto il reno che rompeva tutte le gare rompeva un motore rompeva la turbina faceva a fuoco ricordate no prima gare si erano così si erano pronunciati ma con molta riservatezza nel senso sì va bene però bisogna vedere abbiamo l'esperienza davanti agli occhi e io invece avevo detto subito questa è la strada del futuro bisogna andare sul turbo ferrari l'ha presa per buona diceva beh adesso se è così vediamo di concretizzare qualcosa di va tant'è che il 126 c1 e c2 l'anno che si è ammazzato vilneve tutti quelli che sono saliti in macchina ci hanno vinto non abbiamo vinto poi la ferrari hanno gli hanno assegnato il campionato del mondo perché non c'era per le formule 1 formula 1 era il campionato mondiale piloti l'82 per la prima volta hanno assegnato perché il campionato mondiale marche è quello che si disputava alle ma a sebring con le vetture sport e ferrari teneva molto più a quello che non alla formula 1 perché lì era la sua marca che primeggiava non era il pilota però l'82 non so come eccleston ha voluto omaggiare la ferrari e per la prima volta hanno fatto il campionato mondiale marche della formula 1 e l'hanno assegnata alla ferrari perché effettivamente all'epoca era era stata la macchina che aveva vinto di più anche se come dico si era ammazzato vilneve si era fatto male pironi e quindi avevano dovuto cambiare piloti poi è arrivato l'altro pilota francese che ha avuto il torcicollo non riusciva a guidare non mi ricordo comunque avrete capito chi era e quindi è arrivata l'andretti ha fatto la pole position a monza non era mai salito in macchina poi ha avuto dei problemi al motore tra l'altro a un dispositivo particolare del motore e quindi la macchina era valida tant'è che quando ha vinto a monte carlo vilneve poi ha vinto in spagna quando si è fatta la riunione dopo la gara il commentatore ha detto a gil gil hai visto che la ferrari dice no non ha vinto il motore ferrari perché dice io sono riuscito a tenerli dietro non perché la macchina perché quando venivano le curve erano tutti lì attaccate perché io non potevo affrontarle alla velocità alla quale poteva però come usciva il diritto mettevo giù il piede e le distanziavo di quel tanto che poi non riuscivano ad affiancarsi a superarmi il gran premio di spagna dice no no li ha vinto il motore ferrari una macchina comunque e poi poi cos'è successo che io era il reparto corse quindi era impegnato costa perché io avevo la responsabilità sia del telaio ero il responsabile dell'ufficio tecnico del reparto corse però cos'è successo che le macchine di produzione le vendite cominciavano andare giù e una sera mi chiama ferrari e mi dice senta ingegnere prima c'era stato già un altro episodio cioè la sera io vado da ferrari lavorava nel parto corse mi fa vedere una cartella mi dà un voglio di carte di vogliono fare un motore in produzione col turbo un 3 litri con 300 330 cavalli ma dott'ingegnere ma questo qui di cavalli ne deve dare almeno 400 ma lui senza perdita vabbè lo faccia lei l'ho mi dà un po' no Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti